Purtroppo dopo un fruttoso incontro nella sentieristica a Palinuro, dove finalmente tutti gli attori, tra enti, operatori turistici e associazioni hanno avviato una programmazione comune in materia di turismo escursionistico, seguendo un masterplan predisposto dalla comunità montana, si è verificato un terribile incidente poche ore dopo e a pochi chilometri di distanza. Così Peter Ogstaden, guida ambientale escursionistica presso Trekking Italia e progettista dell'iniziativa di tracciatura e mappatura di circa 150 sentieri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, esprime le sue considerazioni in merito a ciò che è avvenuto. Certamente è una terribile fatalità, sottolinea Peter, di cui non si conosce ancora la dinamica esatta, ma che di certo non dipende dalla manutenzione o meno dei sentieri di Capo Palinuro che frequento da anni. I sentieri non sono per tutti, ma rimanendo sul sentiero stesso è praticamente impossibile precipitare giù. Urge però sottolineare di nuovo la necessità di creare dei percorsi per tutti i gusti e di una informazione corretta circa la loro difficoltà, di modo che le persone abbiano la possibilità di scegliere percorsi alla loro portata. Troppo spesso vedo promuovere dei sentieri che sicuramente non sono per tutti. E troppo spesso vedo persone su sentieri non adatti a loro, come la moda del trekking, ormai esplosa. Urge un tavolo di confronto tra gli esperti, non per lanciare accuse, ma per confrontarsi sulle reali possibilità di evitare il più possibile tragedie come queste. Senza però illudersi che si possano evitare. Non si può mettere in sicurezza la natura, continua Peter. Non si può chiudere tutti i sentieri perché qualcuno si fa male, così come non si possono chiudere le strade perché ci sono incidenti. Ma con la giusta programmazione si può fare tanto e forse in futuro riusciremo almeno ad evitare gli incidenti annunciati, come ormai accade quasi giornalmente sul famoso Sentiero degli Dei. C'è la necessità di creare una rete completa di percorsi, con sentieri più facili per evitare che tutti vanno su quelli più impegnativi, c'è bisogno di un coordinamento della manutenzione di questi percorsi e c'è bisogno di una informazione seria, corretta sulla reale situazione dei sentieri. Solo coordinando gli sforzi di enti, operatori turistici, guide ed associazioni si può arrivare a questo risultato anche in un arco di tempo piuttosto breve.